Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Il mio nuovo singolo, Inseguo Nuvole, parla un po' di un legame Infatti c'è questa figura di un aquilone, quindi un legame che lega tutto ciò che c'è sulla terra, tutto ciò che c'è nel cielo Quindi è la metafora di questo legame Quindi Inseguo Nuvole, proprio perché le nuvole sono quelle figure che generalmente occupano quello che è il cielo Ecco da dove nasce il titolo La figura di Pinocchio, nel video c'è questa figura persistente, che è questo Pinocchio, quasi come se fosse lui il protagonista In realtà rappresenta qualcosa di statico, qualcosa di fermo, mentre tutto intorno si muove, ruota, cambia Quindi Pinocchio è un punto fermo, ed è il protagonista del mio video Il video, così anche come il singolo, potete trovarlo su tutti i digital store Il video a breve uscirà su Youtube, quindi vi invito a visitare la mia pagina Facebook Rosita Cannito, official Il mio canale Youtube, Rosita Cannito, Instagram Rosita Cannito, semplicemente Rosita Cannito Vi invito magari l'anno prossimo, quando uscirà l'EPI, a comprarlo, a sentire un po' quello che è la mia musica, quindi quello che è il mio mondo Volevo ringraziare tutti gli amici di Radio 00 per questa intervista E un grazie speciale a Gianluca per averci ospitato E Anna Maria, qui in questo bellissimo salotto della Libreria del Teatro, grazie mille Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami